Gianni Astone è un comico pugliese nato a Castellaneta nel 1972. Il suo primo incontro con il microfono avviene quando è ancora giovanissimo e grazie al suo senso of humor e alla sua comicità entra a far parte di diverse trasmissioni Zelig e Colorado, lavorando a fianco di personaggi come l'esuberante Paolo Ruffini e l'affascinante Belen Rodriguez. Come testimoniano i numerosi post ironici sui suoi profili social, l'umorismo di Gianni non si limita al palcoscenico ma lo accompagna in giro per il mondo. Lui stesso si reputa un insaziabile avventuriero, in treno, a cavallo o in bici non si ferma mai davanti a nessun ostacolo a costo di dover camminare sulle acque. Sin da bambino infatti ha sempre mostrato il suo animo instancabile nella pratica sportiva portando a casa coloriose vittorie proprio come il cannoniere della sua squadra preferita Ronaldo. Oltre a essere un viaggiatore incallito è un amante del vino e della cucina orientale. E' anche un appassionato dei film d'azione, chissà se il suo sogno è proprio quello di recitare la parte di un supereroe per sconfiggere il suo più grande nemico, il dentista.